Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Vite per l'arte, protagonisti dell'arte del Novecento tra Europa e Stati Uniti di Valerio Terraroli Alberto Savinio, non solo il fratello di Giorgio De Chirico Alberto Savinio ha sempre pagato un po' il fio di essere il fratello di Giorgio come succede nelle famiglie, anche nelle migliori tuttavia i due in realtà hanno avuto un rapporto, una relazione tra di loro oltre agli affetti familiari naturalmente di condivisione non solo di vita ma anche di relazioni, di rapporti con intellettuali, poeti, artisti, musicisti e anche naturalmente essendo quasi contemporanei rispetto a ciò che accadeva intorno a loro nell'Europa negli anni 10, negli anni 20, negli anni 30 fino alla Seconda Guerra Mondiale in realtà Alberto Savinio ha un percorso inizialmente diverso da quello di Giorgio dei corsi di musicisti e comincia a comporre musica probabilmente è proprio questo il problema che le sue composizioni non hanno successo e quindi proprio mentre a Parigi in qualche modo i suoi interessi essendo tutte e due sia Giorgio sia Alberto uomini, giovani uomini molto colti e che erano affascinati dalla storia, della cultura non solo dell'arte, della letteratura, della poesia, del mito classico comincia a spostare i propri interessi nell'ambito della letteratura scrive dei romanzi, scrive delle poesie e soprattutto affianca il fratello diventando un'esegeta del fratello noi possiamo trovare ancora oggi testi di presentazione da parte di Alberto di mostre di Giorgio e quindi diciamo che forse il primo critico il primo esegeta di Giorgio il primo che ha raccontato della metafisica o del realismo magico e lui uno dei primi che usa questo simolo di Giorgio De Chirico è stato proprio Alberto De Chirico il quale comincia a dipingere proprio a ridosso degli anni venti e che prenderà il suo proprio per distinguersi dal fratello prenderà questo cognome Savigno ora qual è la caratteristica di questo artista rispetto al più noto fratello Giorgio? Tutte e due condividono questa visione del mondo che è una visione del mondo che cerca tra le pieghe del reale qualcosa di appunto magico, fantastico, onirico dove inconscio e sogno si mescolano con l'esperienza della realtà tutte e due naturalmente non hanno nulla a che fare col futurismo italiano ne sono tangenti entrano in contatto con alcuni artisti che avevano scelto la strada futurista come Carlo Carrà, i tre si incontrano appunto a Ferrara durante gli anni di guerra ma la loro scelta è veramente alternativa sia le avanguardie storiche quindi cubismo, futurismo, dadaismo e quant'altro sia la scelta più rigorosa che appartiene più alle culture tedesca o dei Paesi Bassi che è la cultura dell'astrazione sia per Giorgio sia per Alberto l'elemento figurativo è un elemento imprescindibile anche perché tutte e due proprio tra il 19 e il 20 soprattutto Giorgio partecipa alla nascita di Valori Plastici un gruppo di artisti, di intellettuali romani gestiti, diciamo, coordinati da Mario Broglio che danno vita a una rivista che si intitola Valori Plastici che avrà una diffusione per un paio d'anni importantissima non solo in Italia ma in Germania, in Francia e quant'altro è una rivista in cui i fratelli De Chirico difendono e chiedono ma siamo nell'ambito di un'atmosfera diciamo generalizzata di un ritorno alla pittura di un ritorno alla storia bene, difendono l'idea di riprendere dalla storia dell'arte, del passato dai grandi maestri del passato dai maestri del Rinascimento piuttosto che dell'età barocca quei valori pittorici, formali, narrativi che le avanguardie in qualche modo avevano messo nel congelatore la scelta delle avanguardie era di andare oltre tutta quella storia e di cominciare una nuova strada con la fine della guerra in realtà questo concetto si esaurisce e si ritorna si dice era una frase di Cocteau rappella l'ordine un ritorno all'ordine tutti ritorniamo a occuparci della tradizione lo farà anche Picasso quindi diciamo uno dei più avanguardisti bene, Alberto proprio in questo momento di trasformazione diventando pittore e mantenendo un'attività di scrittore anche diversamente dal fratello Giorgio inserirà nelle sue opere delle invenzioni che sono molto meno figurative di quelle di Giorgio legate più a delle forme fantastiche per esempio molte composizioni sono legate a storie bibliche o a storie mitologiche dove però i personaggi non sono figure vere o reali o vagamente antropomorfe sono come potrei dire animali animali metamorfizzati metà persone metà animali sembra più che una metamorfosi una specie di fotomontaggio notissimo è un dipinto che lui realizza all'inizio degli anni 30 che è La Sposa e La Sposa è un quadro in cui si vede o l'annunciazione per esempio in cui si vede una donna tutta vestita di crinoline come se fosse una dama settecentesca o dell'ottocento quindi una donna d'altri tempi che però ha la testa la testa è la testa di un tacchino o di un altro uccello che però in cui però c'è la posa del corpo fa capire che sta ascoltando sta aspettando e fuori da una finestra o compare un angelo in volo che è a betta strada tra un angelo e un cupido quindi non si capisce se è l'annunciazione di Maria o se è la promessa del matrimonio oppure un volto gigantesco di un angelo che spia dentro la finestra cioè rinnova diciamo un'iconografia vecchia di secoli dove il rapporto appunto della chiamata divina e della donna che diventa diciamo la rappresentazione dell'umanità si sposa con una visione appunto da sogno dove le cose non sono come dovrebbero essere ma sono come si immaginano come possono essere costruite dalla poesia di un artista e tutta la poetica di Saviglio è giocata su questi termini e fa di lui naturalmente un rappresentante del surrealismo molto più del fratello Alberto sposa la poetica surrealista cioè quella poetica di quella situazione di quel movimento che era nato a Parigi sulla scorta delle teorie appunto di André Breton e di Paul Eluar ma arricchito di tutta la tradizione della storia dell'arte italiana e questo è il destino degli artisti italiani volenti o nolenti si portano sulle spalle una tradizione straordinaria la si può rifiutare ma ti resta del sangue e guardando le opere di Saviglio si capisce seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Vite per l'arte protagonisti dell'arte del novecento tra Europa e Stati Uniti di Valerio Terraroli Hai ascoltato un podcast Rizzoli Education